Salute, Cartabellotto, benvenuto a Rai News 24. Allora, noi abbiamo di fronte due posizioni, diciamo, quella un po' più, tra virgolette, allarmistica per quel che riguarda la diffusione del virus, espressa dalla virologa Capua, Roberto Burioni ha messo più volte in allarme su questa diffusione. Poi invece abbiamo un altro fronte, quello di Massimo Galli del Sacco di Milano, oppure del professor Bassetti del San Martino di Genova, che dicono, signori, però, il trend è stabile, di che cosa dobbiamo allarmarci. Lei che cosa ne pensa? Io sono assolutamente dell'idea che bisogna innanzitutto basarsi sui numeri, quantunque questi possano non essere precisi. A oggi il 99% dei casi confermati è in Cina, in Europa sostanzialmente abbiamo un numero di casi estremamente limitato, 46-47, nel resto del mondo se ne contano 683, di cui la metà vengono praticamente dalla nave, dalla Princess Diamond, che è ancorata alle coste del Giappone. Dal punto di vista squisitamente comunicativo, credo che questa sia un'epidemia un po' particolare, perché è la prima che noi dobbiamo gestire attraverso anche i social media. Sicuramente non si può parlare di pandemia, come questa mattina abbiamo letto sul Corriere della Sera, dall'eminente virologa Ilaria Capo. Io credo che questo significa dover fare squadra tra quelli che sono i virologi, gli esperti di sanità pubblica, gli esperti di comunicazione, perché ci sono alcune comunicazioni che devono essere contenute tra ricercatori e ricercatori, ma non possono essere diffusi al grande pubblico. Sicuramente il virus è estremamente contagioso, ma affermare, senza che lo ha detto l'OMS, che siamo di fronte a una pandemia accertata, questo sicuramente rappresenta un motivo d'allarme che non è assolutamente condivisibile. E non è appunto realistico allo stato attuale per quel che ne sappiamo, per i numeri che abbiamo a disposizione. Allora, io le voglio chiedere, visto che lei si occupa di queste proiezioni che si fanno sulla eventuale diffusione, è pensabile che per esempio tutto il continente sudamericano, noi da lì non abbiamo nessun caso, è pensabile, è credibile che dall'Africa ci sia un solo caso, visto anche la presenza molto corposa di cinesi in quel continente. E se così non è, cioè non è credibile, ci sono altri casi, questo ci deve rassicurare, perché vuol dire che sono casi che in qualche modo non hanno fatto partire focolai epidemici, oppure dobbiamo preoccuparci? Io credo che parlare oggi dell'Africa o del Sud America equivalga a spiare da parte di una persona ipovedente dal buco della serratura in una stanza buia, perché di fatto non ci sono informazioni che vengono da quei paesi. Sappiamo che dall'Africa mancano i kit e quindi fanno fatica a diagnosticarli, tanto che il primo caso viene fuori dall'Egitto, che sicuramente non fa parte di quell'Africa dove il livello dell'assistenza sanitaria è estremamente basso, del Sud America praticamente non è arrivato nulla. È evidente che in questo momento fare delle previsioni è assolutamente impossibile, improbabile. Quello che è certo è che comunque la cintura di sicurezza che è stata messa intorno alla Cina ha fatto in modo che la diffusione del virus da quello che è il focolaio principale della provincia di Hubei nel corso dei giorni sta rallentando la percentuale di diffusione e quindi la percentuale di nuovi casi sia nelle province confinanti Hubei sia in quelli che sono tutti gli altri paesi della Cina. Ma sicuramente sta funzionando la cintura di sicurezza che l'Europa e in particolare l'Italia hanno messo in atto con le misure anche in Italia della restrizione del blocco dei voli per la Cina. Quindi in questo momento bisogna seguire sicuramente l'evoluzione dei casi e ovviamente stare all'allerta su quelle che sono le eventuali segnalazioni di casi che vengono riportati in Africa piuttosto che in Sud America e piuttosto che in altri paesi. Ma a oggi non c'è nessun altro focolaio in nessun altro paese fuori dalla Cina per cui tecnicamente non è possibile parlare di pandemia. Un'ultima cosa che è importante sottolineare per i telespettatori. Nei passati giorni abbiamo sentito il cosiddetto picco che si è verificato nella provincia di Hubei che in un giorno praticamente ha portato un aumento di circa 14-15 mila casi. Questo è dovuto perché nella sola provincia di Hubei, e questo va ribadito, sono stati cambiati i criteri diagnostici, cioè come casi non vengono riportati solo quelli confermati con il test di laboratorio, ma anche i casi che hanno una diagnosi di polmonite clinica radiologicamente o TAC confermate. Per cui è evidente che nella provincia di Hubei il numero di casi risulta incrementato del 30%. L'OMS ha accettato questa differente distinzione diagnostica, però riporta i casi separatamente e comunque quando si fanno le statistiche invita a fidarsi soltanto di quelli che sono i casi confermati in laboratorio. La ringrazio molto Cartabellotta per essere stato qui con noi a Rai News 24.